Ciao a tutti ragazzi, qui c'è ancora un Alex e sono qui su ArcheAge, ma non sono qui con un gameplay, sono semplicemente qui per dirvi un paio di cosette Praticamente volevo dirvi che per un po' non ho fatto molti video perché tipo quali della Soder sono fermi perché il buon Dritak ha in vacanza a raccogliere i funghi a fare il pane Non chiedetemi dove cazzo va in vacanza E in ogni caso sono stato abbastanza impegnato, anche se è estate, lo so che è un po' strano, però sono stato veramente impegnato Quindi volevo dirvi che da settembre rincominceranno i video normali proprio dalla prima settimana di settembre Mentre per adesso uscirà un video ogni tanto, così, proprio for fun Mentre quelli che usciranno adesso sarà probabilmente uno su Superball Perché mi piace, è un casino, è veramente troppo bello E uno su piante contro zombie che è uscita a nuova edelità, quindi probabilmente ci uscirà un video anche lì Mentre da settembre tornerà la Soder Forse una nuova mappa di Minecraft, non lo so Parallelamente alla Soder, ditemi cosa ne pensate E anche qualche giochino nuovo Magari faccio un video anche su Archeage, non so se sapete già cos'è Questo qui, guardate, che bellino, che bellino È un nuovo gioco MMRPG che sta uscendo Uscirà a settembre barra ottobre in teoria Adesso è in alfa e ogni tanto fanno delle piccole beta di 4-5 giorni E se vi piace, magari farò un video anche lì per dirvi un po' com'è il gioco Anche se, cioè, farci un gameplay MMRPG non è molto facile Quindi, fatemi sapere cosa ne pensate di tutto ciò E ci vediamo di nuovo con i video Mentre questi due canguri, tenere i tenere, mi picchiano Ciao, ciao! Ciao, ciao!